Ghetta vince tutto! Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ, torniamo a parlare di sua maestà David Ghetta. Torniamo a parlare del re dei DJ che è stato incoronato come primo DJ per l'anno 2020 e non è la prima volta, mentre sarà la terza volta che farà questo streaming di beneficenza United at Home a Capodanno 2020, questa volta nel 31 dicembre fino al primo gennaio 2021, questa volta la location sarà Parigi. Ma non solo questo perché David Ghetta ha aggiunto altri due trofei al suo incredibile palmarès dopo essere stato premiato per aver infranto un altro paio di Guinness World Records La superstar della musica dance ha raccolto un milione e mezzo di dollari con i suoi primi due stream United at Home che sono andati rispettivamente in onda in streaming a Miami e a New York. 50 milioni di spettatori in tutto il mondo si sono sintonizzati per vederlo battere il Guinness World Record per il DJ set più visto su Facebook. E' inoltre appena uscito dal successo di Let's Love, un'importante collaborazione con la superstar pop Sia, da lui lanciata ai tempi di Titanium, la produttrice di musica dance e DJ vincitrice del Grammy Award. E' stata premiata con una presentazione virtuale del certificato a sorpresa. I premi erano entrambi legati alla sua massiccia presenza sui social media, in quanto ha battuto i record per la maggior parte degli spettatori per un live streaming DJ set su Facebook e DJ più apprezzato su Facebook, nonostante a molti non stia simpatico e ci sono gli haters che lo bersagliano, vabbè, ma che gli haters si sa arrivano quando uno diventa famoso, altrimenti non tese fila nessuno. Il Guinness World Record ricorda che Goethe ha raggiunto la quota di un milione e mezzo di dollari da dare in beneficenza che sono stati utilizzati per promuovere New York City Feeding America, Organizzazione Mondiale della Sanità e Foundation Opito de Paris, tra le altre organizzazioni che all'epoca stavano combattendo l'insorgenza del virus. Uno dei flussi streaming ha raggiunto l'incredibile numero di 161.823 fan coinvolti. Questa cifra gli evalza il titolo di maggior parte degli spettatori per un live streaming di un DJ set su Facebook. Pensate a quelli che vedo io live delle dirette. Uno, due, tre, quattro, chiunque di noi, insomma, c'è quello che fa 100, ci sembra chissà cosa, 161.823 fan coinvolti, un picco, e ha portato a 50.460.923 mi piace, assicurandosi il record del DJ più apprezzato su Facebook. Sì, c'è chi dice che i mi piace non contano niente, anch'io ho una strana concezione dei mi piace, dei like e dei fan, però alla fine in questo mondo queste cose contano. Ghetta non ha rivelato esattamente da dove andrà in onda, ma un comunicato a stampa afferma che lo spettacolo si svolgerà in uno dei luoghi più magici di Parigi. Potrebbe essere, ovviamente, la Tour Eiffel all'orizzonte, ma non è detto perché Parigi non è solo Tour Eiffel. L'edizione parigina di queste serie di eventi andrà a beneficio dell'Unicef e di Restos du Coeur, un'importante organizzazione di beneficenza francese che distribuisce pacchi di cibo e pasti caldi a chi ne ha bisogno. Per dare vita all'evento, Ghetta ha collaborato con PlayStation 5 e Xiaomi. L'evento streaming di Capodanno 2020 di David Ghetta, United at Home, inizierà a mezzanotte a Parigi e ci si potrà sintonizzare direttamente dalla pagina Twitter di David Ghetta. Vedete, David Ghetta, New Year's Eve, Tuesday, December 31. Festeggiamo insieme a lui il Capodanno 2021. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti sia di David Ghetta, sia di questi streaming e del Guinness World Records raggiunto da questo titanico DJ che sta veramente spopolando. Devo ricordarvi dei corsi per DJ, corsidjproducer.com, dove potrete fare tutte le lezioni personalizzate con il sottoscritto. Iscrivetevi contattandomi qua nella sezione Contact, compilando il form, oppure nella pagina Facebook che trovate all'interno di ogni video di SOS4DJ. Oltre alla pagina Facebook troverete la pagina Instagram e la pagina Telegram con la nostra community, dove potrete avere delle anteprime e avere dei contenuti extra di SOS4DJ. Iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando, SOS4DJ, cliccando qua su iscriviti, così potremo crescere noi, ma sicuramente potete crescere voi con un sacco di novità, di tutorial a vostra disposizione. Sostienici se pensi che la nostra causa ti renda migliore, che riesca a migliorare le tue capacità e tutti questi tutorial aiutano a farti crescere, riconoscicelo tramite il tasto PayPal, offrendoci un caffè, una pizza, quello che vuoi. Come sempre è il numero uno, l'ha dimostrato nella top 100 e non solo perché lo ha detto la classifica di DJ Mag, perché veramente è in tutti i campi eccelle e questo che dire, c'è a chi piace, a chi non piace, a chi piace il suo genere, a chi non piace il suo genere, però come DJ c'è poco da discutere, ha infranto tutti i record e quindi chapeau dicendogli nella sua lingua. Da parte di OSS4DJ vi invito a commentare qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di queste iniziative che sono benefiche e di questi record veramente frantumati dal DJ francese numero uno al mondo. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale, che è importantissimo per noi e da parte di OSS4DJ e Cloud la vostra soddisfazione e il nostro miglior premio. Pidipidipi!